Giovedì 4 maggio 2023, passato appena un giorno dall'atteso meeting della Fed del 3 maggio, un meeting tanto atteso per diverse ragioni, non tanto per la decisione che è stata presa sul rialzo dei tassi, quanto per le possibili condiscrezioni sulle prossime mosse e sul feeling appunto della Banca Centrale, su quello che sta succedendo e che è successo. Andremo a approfondire appunto quanto è stato pubblicato nella giornata di ieri e quanto è stato poi detto durante la conferenza stampa e parleremo anche degli effetti che sono già arrivati a livello economico. Prima di tutto questo però voglio ricordarti che l'appuntamento del 20 e 21 maggio di Milano si avvicina sempre di più, quindi nel caso non l'avessi ancora fatto mi raccomando non perdere l'occasione di partecipare acquistando appunto il biglietto. Va bene, lanciamo subito la nostra sigla e poi partiamo con il video di oggi. Ciao, bentornato al nostro canale YouTube, quello del Trend Positioning Research Institute. Io sono Ifisio Garau, cofondatore dell'Istituto e responsabile per la parte fondamentale della nostra ricerca. Come accennavo nell'introduzione di questo video, nella giornata di ieri si è tenuto l'atteso meeting della Fed, quello del 3 maggio e ovviamente come al solito è stato pubblicato appunto uno statement post-meeting e si è tenuta poi una conferenza stampa su quanto avvenuto all'interno del meeting durante la quale appunto Powell ha potuto spiegare la visione della banca centrale. C'è da dire che lo statement che è stato pubblicato ha lanciato, ha diffuso ecco delle speranze sulla pausa della banca centrale del ciclo rialzista, quindi la Fed sarebbe pronta appunto a fermarsi con il rialzo dei tassi. Attenzione perché non è stata comunque specificata una data esatta e la pausa ovviamente non coincide con il taglio dei tassi. Il mercato ha reagito in maniera devo dire abbastanza volatile alla pubblicazione del report. Abbiamo avuto poi mano a mano che appunto passava il tempo che cominciava anche la conferenza stampa una decisa tendenza al ribasso, infatti i principali indici hanno chiuso molto lontani dai massimi di giornata e addirittura con il segno negativo. Questo perché? Perché quanto diciamo interpretato ecco dallo statement, uno statement che in realtà è stato molto ben scritto, nel senso che è stato abbastanza vago, nel senso che non ha dato certezze, ma diciamo riportato più ecco dettagli su quello che probabilmente non si farà, in particolare per quanto riguarda un immediato rialzo. È stata rimossa anche una parte che invece era contenuta nello statement del miti precedente che faceva riferimento appunto a tutte le misure necessarie, ulteriori misure necessarie per portare l'inflazione verso il 2%. Attenzione però perché questi esercizi diciamo di stile che sono stati fatti all'interno dello statement ovviamente non significano che la Fed ha smesso di combattere la propria battaglia per riportare l'inflazione verso il target, anzi tutt'altro. E lo si capisce bene anche analizzando alcuni passaggi del discorso di Powell. In un post di ieri infatti ho riportato quelle che secondo noi sono le affermazioni chiave della conferenza stampa di ieri dove si vince che la Fed a mio parere ha cercato di tenere i mercati in ordine. Infatti nonostante la chiusura negativa abbiamo avuto i supporti più importanti per quanto riguarda gli indici che sono stati rispettati sia a livello di numeri, quindi di punti, di numeri tondi e anche a livello poi appunto di supporti dinamici. Quindi non c'è stato ecco un sell off particolarmente violento ma è vero che comunque gli investitori trader non hanno gradito probabilmente quello che è stato detto durante la conferenza stampa. Powell ha ripetuto come già fatto in passato in realtà che la banca centrale appunto adotterà un approccio data dependent quindi la propria azione verrà decisa in gran parte da quelli che saranno appunto i dati economici che verranno pubblicati nelle prossime settimane. Ovviamente questo non toglie nulla alla possibilità di vedere addirittura un rafforzamento della politica monetaria. Infatti Powell ha ripetuto che la banca è pronta a fare di più se questo sarà giustificato. E nonostante l'interpretazione che in tanti hanno dato ecco a uno statement che dire definire acrobatico è poco, Powell stesso ha ripetuto che nella giornata di ieri del 3 maggio non è stata presa una decisione concreta ecco su una pausa del rialzo dei tassi. L'inflazione infatti come ha confermato lo stesso Cerma rimane molto al di sopra del termine del 2%. E' vero che c'è stato un rallentamento ma ci sono ecco delle persistenti pressioni inflazionistiche quindi c'è ancora una strada molto lunga e anche ricca di ostacoli aggiungerei per arrivare al target. Per prendere poi questa decisione quindi per capire se effettivamente poi il Fed Funds che è stato raggiunto è sufficientemente restrittivo la banca centrale ha bisogno di più dati quindi non sarà sufficiente una singola riflessione al riguardo per convincere ecco la Fed a tagliare i tassi ad esempio. Powell e la Fed in generale continuano a sperare in un raffreddamento ecco del mercato del lavoro senza troppi scossoni quindi che pur avvenendo un aumento della disoccupazione non porti ecco i numeri che abbiamo avuto in altre situazioni in altri precedenti simili. Quindi la ipotesi lo scenario del soft landing è ovviamente quello più gradito alla Fed ed è anche quello nel quale la stessa Fed continua a sperare. C'è da dire ho preso qualche nota a riguardo che ci sono stati effettivamente già degli effetti sull'economia per quanto ho fatto finora. Quindi rialzo da 25 punti base decisione presa ieri decisione ampiamente scontata ancora una volta però ecco comunicazione forse un pochino confusionaria. Ecco senza dubbio però abbiamo a livello economico quattro settori chiamiamoli così che stanno già sentendo prima degli altri la situazione ecco di high rates environment che stiamo che stiamo vivendo. Il primo senza dubbio è quello del real estate che ha visto una contrazione appunto delle transazioni proprio a causa dei tassi di interesse più alti. Questa contrazione ha riguardato entrambe le parti diciamo quindi sia i compratori che i venditori nel senso che poche persone direi nessuno ha interesse a vendere una casa che magari sta pagando con un mutuo acceso al 3% e doverne poi magari comprare un altro o meglio dover accendere un altro mutuo per comprare ecco un'altra casa con un tasso del 6%. Chiaramente non è un ragionamento molto molto conveniente da fare. Stesso discorso però anche per i compratori perché anche i compratori adesso si trovano davanti a delle rate del mutuo che sono molto più alte rispetto al passato. Quindi sono delle spese in più appunto ogni mese. Ci sono degli effetti anche nel settore tecnologico in particolare per quanto riguarda le small e medium cap. Queste small e medium cap in molti casi l'abbiamo visto nel 2020 dove però la situazione appunto a livello fondamentale macro fondamentale di politica monetaria era completamente diversa. Spesso ecco non producono ancora utili quindi attirano gli investitori chiedendo appunto dei finanziamenti e promettendo poi di produrre dei guadagni degli utili dei quali potranno appunto attrarre poi beneficio. Quando la Fed ha iniziato a crollare i tassi ecco i cash flow futuri che venivano ecco stimati appunto da queste piccole aziende sono diventati meno convenienti. Nel senso che mentre quando i tassi di interesse erano a zero ad esempio nel 2020 ovviamente l'appetito per il rischio era molto alto e quindi gli investitori cercavano appunto altre vie per far fruttare il denaro. Nella situazione attuale invece basta tenere diciamo i soldi in banca anche se poi sappiamo che ci sono tutta una serie di costi diretti e indiretti da stimare per avere già una rimunerazione sicura e diciamo immediata. Ecco perché la valutazione di questi titoli a media e bassa capitalizzazione sono poi scesi negli ultimi due anni ecco diciamo così. Abbiamo poi degli effetti anche sulla manifattura. La manifattura in generale sull'economia americana pesa per circa l'11%. Abbiamo avuto già un calo della produzione industriale appunto sopra le attese quindi un peggioramento, un deterioramento appunto dell'economia anche nell'ultimo periodo perché appunto questi tassi più alti diciamo rallentano la domanda per i beni che si acquistano ad esempio chiedendo un prestito comunque prendendo dei soldi, accendendo un mutuo, un credito, sarebbe meglio chiamarlo debito, poi con una banca o con un'altra istituzione finanziaria. Quindi i consumatori ovviamente tendono a rimandare queste decisioni perché adesso diventa più costoso pagare le rate. Ovviamente questo è un effetto anche sulle scorte poi delle aziende, scorte che sono in aumento. Parlando ancora di manifattura c'è un indice interessante diciamo da monitorare che è quello ISM che ha indicato cinque periodi consecutivi di contrazione. Contrazione che si è vista anche nel settore bancario per quanto riguarda i flussi di credito, ovviamente il rallentamento dei flussi di credito ha degli effetti poi sull'economia. Quindi anche se non si può parlare ancora di recessione nel termine, nel significato al quale siamo abituati sicuramente c'è un deterioramento a livello economico e questo dipende appunto dalle iniziative che sono state prese dalla Fed. C'è da dire che secondo la stessa banca centrale il lavoro non è ancora completato. Se ad esempio parliamo del tasso di disoccupazione siamo al 3,5%, il dato addirittura migliorato nell'ultima rilevazione, la Fed vorrebbe vederlo a 4,5% entro fine anno, quindi entro dicembre. Tradotto i numeri in persone, perché poi dietro questo percentuale ci sono delle persone, delle famiglie, significa vedere oltre un milione di americani disoccupati, quindi nuovi disoccupati, entro la fine dell'anno. Questo ragionamento si basa sul fatto che per la Fed una situazione di crisi economica, una recessione, sia un'opzione migliore, forse più che migliore diciamo la meno peggio rispetto a quella di una situazione di iperinflazione. Quindi preferisce eventualmente, almeno sta dando questa idea, sollevare i tassi in maniera tra virgolette eccessiva, nel senso fino a rompere qualcosa, ad esempio causando una recessione, piuttosto che essere diciamo meno prudente rispetto a quanto dovrebbe essere. Quindi ripetere lo stesso errore degli anni 70. Questo è un po' il terrore poi di Powell. Quindi in quel periodo cosa era successo? Che la banca centrale aveva allentato la presa ai primi segnali del rallentamento dell'inflazione. A seguito però di queste decisioni la stessa inflazione era nuovamente ripartita, schizzata alle stelle. Quindi per capirci possiamo fare il paragone con una terapia medica, ad esempio con gli antibiotici. Se non seguiamo appunto il programma della terapia, ad esempio smettiamo di prendere l'antibiotico prima della scadenza che il medico ci ha dato, rischiamo di prenderci una ricaduta. E questa ricaduta molte volte addirittura peggio della prima volta che ci siamo presi la malattia. Quindi la situazione a livello economico è simile. La Fed vuole proseguire il suo lavoro, vuole arrivare fino alla fine e ha trovato diciamo altri due indicatori sui quali probabilmente giustificare con quest'ultimo ritocco che da qualcuno anche a livello di istituzioni finanziarie è stato criticato. Il primo è sicuramente il PCI che da gennaio a febbraio era salito dello 0,1% mentre da febbraio a marzo è cresciuto dello 0,3%. C'è stata quindi un'accelerazione. A livello annuale siamo molto lì sopra del target del 2%, quindi sicuramente questo è un numero che ha pesato la scelta della banca centrale. E poi c'è anche l'ICI, ovvero l'Employment Cost Index e praticamente l'inflazione salariale. La Fed, brutto a dirsi, perché è il contrario di quello che vorremmo noi comuni mortali, vorrebbe che la gente guadagni di meno. Tuttavia nel primo trimestre del 2023 l'ICI è cresciuto dell'1,2%. Si tratta della prima accelerazione in realtà degli ultimi 12 mesi. Quindi qualcosa sicuramente non sta andando secondo i piani da questo punto di vista. Attenzione però non farti ingannare da questa crescita perché non significa che la gente sta guadagnando effettivamente di più, anzi i salari reali sono ovviamente ancora negativi. Quindi ancora dolore sui consumatori, sulle famiglie e anche sulle imprese. Ma questa è una scelta appunto della Fed, che non sto né appoggiando né criticando, in realtà che ha deciso appunto di applicare ancora ulteriore pressione sul pain, sapendo che gli effetti, come è stato ribadito tra l'altro ieri, arriveranno in ritardo. C'è da dire anche che i consumi tutto sommato fino a questo momento sono stati abbastanza resilienti. Quindi c'è ulteriore lavoro da fare da parte della Banca Centrale per soffocare la domanda ed effettivamente far partire questa recessione che la stessa Fed ha giudicato come probabile, molto probabile nel 2023, è che avrà però un impatto diciamo mild, quindi medio, morbido, non dovrebbe essere qualcosa di troppo serio. Tocchiamo ferro o quello che abbiamo a portata di mano, perché sappiamo che anche in passato, quando la Banca Centrale si è lasciata andare a proclame di questo tipo, pensiamo ad esempio al 2007, con tutto quello che è successo nel 2008 e 2009, i commenti erano stati simili, poi la realtà è stata molto diversa da quello che la Fed si aspettava. C'è addirittura un altro scenario che probabilmente è il peggiore di tutti, che è quello che vede concretizzarsi appunto di una recessione, di una crisi economica, ma accompagnata da un'inflazione che resta elevata, c'è il rischio di stagflation, quindi lo scenario peggiore da questo punto di vista. Vedremo un pochino che cosa succederà anche con i prossimi report, ovviamente si tratta di dati che fanno riferimento al passato, ma sarà comunque utile quanto meno leggerli per capire qual è stato poi l'impatto delle politiche che sono state prese, applicate, delle decisioni che sono state prese fino a questo momento, quindi farci anche poi un'idea di che cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro. Quindi concludendo, sicuramente è positivo aver lasciato la porta socchiusa per quanto riguarda la pausa del rialzo dei tassi, abbiamo avuto una conferma da parte del mercato, almeno prima dell'apertura di oggi, giovedì 4 maggio, con il rispetto di aree di supporto importanti, pensiamo ai 12.000 punti ad esempio sul Nasdaq, quindi non c'è stato nessun crollo, nessun sell off, bisogna vedere quale sarà poi la reazione alla reazione, quindi a questa prima percezione che abbiamo avuto nella giornata di ieri mercoledì, che cosa effettivamente poi seguirà. Va bene, questo era tutto quello che avevo da dirti per quanto riguarda appunto il Meeting Fed del 3 maggio, la decisione che è stata presa, gli effetti che ci sono già a livello economico, se il video è stato di tuo gradimento ti invito a mettere un bel mi piace, ovviamente a iscriverti al canale in modo da rimanere poi anche sempre aggiornato per quanto riguarda i prossimi video. Nel caso non l'avessi ancora fatto, iscriviti anche alla community Facebook, dove potremmo discutere temi come questo e tanti, tanti altri, e ovviamente se nel caso non l'avessi ancora fatto, acquista il libro di Giamassimo, questa è un po' l'enciclopedia che ti permetterà di parlare la stessa lingua che parliamo all'interno ad esempio della community, e stesso discorso ricordati ecco di seguire anche il gruppo Telegram, che per alcune persone può essere anche una maniera diciamo più efficiente ed efficace e per rimanere sempre aggiornati su quello che viene pubblicato e discusso. Va bene, ti ringrazio ancora per la tua attenzione, ti saluto e ovviamente ti aspetto al prossimo video. Ciao!